L'altra sera eravamo a cena, avevo invitato due miei amici, due miei coetanei a tavola e stavamo parlando e a un certo punto mio padre ha rotto un silenzio di tre minuti con questa frase Comunque le sonorità di Fabri Fibra e J-AX spaccano alla quale sono seguiti altri tre minuti di imbarazzo con i miei amici che mi guardavano come dire davvero sta cercando di fare colpo su di noi in questo modo, cioè è inquietante no? è come se mio padre invitasse due suoi amici, due sue coetanei a cena e io facessi qualsiasi cosa per dimostrarmi più adulto di quello che sono, che ne so finisce la cena vado da uno uè giovanone allora? Cazzo qua per tirarlo su ormai ci vuole una gru eh? Quante pillole stai prendendo? Figa sei blu in faccia? Senti ma le bimbe come stanno? Bimbe le ho viste che erano alte così ormai saranno giganti comunque bisogna organizzare una bella cenetta di pesce senza signore che ci rompono le palle sai quelle cose che dicono gli adulti? Sarebbe inquietante no? Sofì non pensi che sia inquietante questa cosa che fanno? Lo è Davide lo è ma ci hanno dato un programma rai da condurre apposta non credevo fosse mai possibile, sono a un passo dalla copertina della settimana enigmistica un mio grande sogno Tanto così sei? Tanto così, manca poco Presentiamo lo studio Dai Presentiamo questo posto Ciao a tutte le persone che ci stanno guardando Io sono Sofia Io sono Davide E insieme a noi ci sono un sacco di bellissimi ragazzi Ciao ragazzi Camilla, Angelo, Matilda, Monica, Jazz, Arman e Alice Come dice questa scritta dietro di noi, Sobria Il programma si chiama Dicono di noi Dicono di noi chi? Noi, noi giovini Generazione Z Io e Davide, come dicevo, siamo conduttori Incredibile E assieme a noi ci saranno questi ragazzi che vi abbiamo appena presentato a supporto Abbiamo un buon campione di Generazione Z Cosa dicono di noi? Vi leggo un po' di titoli Generazione Z Che cosa vuol dire ok boomer e perché è il grido di battaglia contro gli adulti? Lasciare il lavoro è virale La Gen Z festeggia il licenziamento sui social Gen Z, generazione Z, per i boomer all'ascolto Gen Z, due punti Abbiamo perso il presente, siamo senza futuro Generazione Z, due punti La generazione più stressata degli ultimi anni Mamma mia Tu ti senti stressata? Io mi sento stressata dopo aver letto questi titoli L'ho capito Stressatissimo